Siamo a presentare questo libro, Ich bin Schwanger, 1945. Gli autori sono Anna di Gianantonio, storica goriziana, e Gianni Peteani. Io sono Gianni Peteani, figlio di Undina Peteani, considerata dagli storici prima staffetta partigiana, deportata ad Auschwitz e a Ravensbrück. La storia che si narra in questo volume è quella di Nerina Legovic sposata Ursini. Una storia particolare, molto ben sintetizzata nella magnifica prefazione di Andra e Tatiana Bucci. Questo libro ha una particolarità, diremmo un'unicità. Tratta la vicenda di Nerina Legovic-Ursini, sposata Ursini, nella sua condizione di donna incinta, che porta avanti la gravidanza durante tutta la sua detenzione nel lager di sterminio nazista di Ravensbrück. Ravensbrück, solo lager di sterminio nazista, edificato e messo a regime nella Germania, vicino a Berlino, per sole donne. Cosa succede? Succede che Nerina parte da Trieste, dopo essere stata arrestata come staffetta partigiana, parte con la cognizione, scopre nel carcere del coroneo di essere incinta, riesce a informare i parenti, scrivendo sul fondo di una teglia con cui loro portarono il cibo, informarla sulla condizione, e parte piena di angoscia, parte chiaramente con una grande paura, con ansia, angoscia, essere incinta, essere sola, senza il suo compagno, con l'incognita di dove, verso dove parte, nulla sa. Arriva nel lager e comincia a conoscere l'orrore del luogo, comincia a comprendere le esecuzioni, lo sterminio, vede i forni crematori e affina una serie di attenzioni e di filtri alla sua condizione particolare che ricevono la solidarietà delle compagne, specie delle francesi con cui si trovava a condividere la baracca. Va avanti in questo percorso che diventa sempre più duro, il lager ormai è scollegato dalla rete dei rifornimenti, per cui non ci sono i viveri scarseggiano, l'acqua è putrescente, le fognature saltano, è veramente un delirio, un posto incredibile di malattie, e le malattie si sommano alle epidemie, ai parassiti, tutto, tutto, tutto e di più. Nerina contro ogni logica riesce a sopravvivere, riesce a portare avanti la gravidanza, riesce a tornare dopo un viaggio pazzesco di rientro a Trieste. Ci vogliono un giorno e mezzo affinché le sue sorelle riescano a ricondizionarla, a ripulirla, a lavarla, a calmarla. E dopo pochi giorni nasce Sonia. Sonia nasce perfetta da questa donna che era diventata scheletro, era un teschio che camminava, uno zombie. Nonostante tutto nasce, nasce sana e forte. avrà tre figli. Manolo, pittore di fama internazionale, quando lo incontro ci presentiamo, conosceva la storia di mia madre, ma non conosceva la vicenda di Nerina e non conosceva il passato in pratica di Sonia molto, molto, molto debolmente. E qui questo libro va proprio ad analizzare la grande importanza della catena che lega il prosieguo della narrazione intergenerazionale, che qui è venuta assolutamente a mancare, al punto che nella prima intervista che ho fatto a Sonia, purtroppo lei non aveva mai parlato, e l'ho fatta sei anni fa, non aveva mai parlato di questa vicenda. e purtroppo mentre parlava all'inizio tutto è stato interrotto da un suo pianto copioso che è andato avanti una decina di minuti. Non riusciva, non riusciva. Per cui aveva un'interiorità talmente pesante e dura da sbrigliare, da gestire, da amministrare, che non l'aveva mai esposta e non l'aveva anche esposta ai figli. Figli dove nella fattispecie Manolo, che è una persona tutta di un pezzo, siccome parla spagnolo, è nato in Messico ovviamente, ti dà l'idea di... cioè incarna le fattezze di un torero spagnolo, proprio una persona, Arcini ha una simpatia estrema. Però la sua volontà, il suo desiderio di scoperta delle sue radici triestine di scoprire quanto gli è stato negato non troverà una risposta se non nella scrittura di questo libro. Questo libro ha riavvicinato peraltro Sonia, la figlia, alla madre che purtroppo nel frattempo è venuta a mancare ed ha avvicinato anche i tre figli sempre a Sonia, che innegabilmente erano stati interferiti dalla mancanza di questo... della spiegazione di tanti perché. Il libro è un libro sicuramente impegnativo. Talvolta con l'autrice ci siamo scontrati per ridere dicendo quando lei diceva non è assolutamente il libro da leggere sotto l'ombrellone quando l'abbiamo promosso in estate. Invece posso dire che è un libro che cattura, che fagocita il lettore, che lo porta via via verso la necessità di comprensione e di interpretazione di quanto importante sia la trasmissione della memoria, perché senza trasmissione di memoria e senza memoria come sancisce Primo Levi non potrà esserci sicurezza in un futuro che noi possiamo certamente dire e coniugare in un futuro di pace. Grazie. 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 Grazie.